Buonasera, questo è un appello a tutte le single d'Italia, tutte, quelle appartenenti al gruppo, no? Ci sono due gruppi principalmente, quelle per scelta, no? Io sono i single per scelta e quelle che non dicono stronzate. Ecco, io mi rivolgo a tutte voi. Attenzione, l'inverno è arrivato, fa freddo. Io lo so che la tentazione di andare in camera da letto a raccattare tutto quello che trovate e mettervelo addosso è forte. E il calzettone di lana spesso con l'antiscivolo, e la calzamaglia in thermal, e il pigiamone di flanella con la salopette, e la felpa, e la vestaglia, e la ciccia di lana in testa. Ma non si può, non vi si può vedere. Voi stesse non dovreste volervi vedere allo specchio. Quando uscite, quando uscite siete conciate anche peggio. Tutte queste cuffie calcate fino a qua non si possono vedere. Mantenete un po' di stile, perché il maschio vi osserva, vi osserva sempre, ok? Quindi, quando siete in casa, prendetevi una bella stufa, fate qualche cosa, mettetevi il riscaldamento centralizzato, inventatevi qualche cosa. E quando uscite di casa, morite di freddo. Pazienza. Se ne riparlerai in un altro momento, quando ci sarà un'occasione più favorevole. Va bene?